Un orologio con una lancetta che segna un'ora. Non abbiamo la lancetta dei minuti, abbiamo solamente la lancetta delle ore. Dovrai prendere la lancetta e posizionarla esattamente su un'ora. In questo caso abbiamo le ore 3, però puoi mettere le ore 4, puoi mettere le ore 5, un'ora, un'ora qualsiasi. Questo lo farei mentre io sono girato di schiena. Sì, perché io ti cedo l'orologio, mi giro di schiena e tu potrai scegliere un'ora esatta. Quindi non mettere le 2, un quarto, le 2, 12, ma o le 2, le 3 o le 4. Ecco, mentre mi sono girato di schiena, prendi l'orologio, a favore di camera, fallo vedere, scegli una determinata ora, molto bene, e dopodiché tiri sullo schermo in maniera tale che sia assolutamente impossibile vedere l'orologio. Ho tirato sullo schermo? Sì. Mi posso rigirare, molto bene. Ora, te hai scelto un'ora, una determinata ora, e si trova qua questa informazione all'interno della scatolina. Copro, mi concentro, vedo che è un'ora, un'ora particolare per te, sì, quella che hai scelto. Certo, potrebbero essere ore di giorno, ore di notte, ma in questo caso penso che te abbia indicato di giorno, mezzogiorno. Sì, un'ora in particolare, in cui si cucina, sai che hai da fare, e mezzogiorno, vediamo se è vero. Oh, incredibile, ho esattamente indovinato l'ora indicata sull'orologio.